I lavori dietro le quinte, se lo sono detto in un orecchio, chi è la vincitrice, vedete il mio braccio, ho messo in modo che il mio braccio non faceva leggere né le partecipanti che ha loro il nome, è molto importante questo perché loro non lo sanno, giustamente come vuole che sia, ovviamente. Conquista la fascia di Miss La Riviera, sentiamo qualche numero. Bene, direi che sulla ruota di Genova va bene. Signori, conquista la fascia di Miss La Riviera, Elena Dresti, la numero 9! Un bell'applauso, rimaniamo e facciamo sentire il calore, Elena Dresti! Un applauso a tutti, davvero, un applauso bello a tutti, ecco l'abbraccio. E qui per lei, tra le altre cose, un premio speciale, un set di make-up firmato Anna Belle, il laboratorio, la bioprofumeria di Imperia che ha curato il trucco delle nostre concorrenti. Dunque davvero anche un altro bellissimo omaggio insieme a quello che forse è più bello, la fascia per questa semifinale di Miss La Riviera. Un bell'applauso, signori, la numero 9, Elena Dresti! Bello, voglio sentire un applauso forte, 3, 2, 1! Complimenti Elena, complimenti ancora davvero a tutte le ragazze, adesso qualche foto di dito come vuole la tradizione. Grazie di cuore al pubblico, signori, oggi è ferragosto, tra poco terminerà, ma l'estate è ancora qui, pronta e tutta da vivere, arriva libre. Grazie di cuore e un saluto ancora particolare all'amico Andrea Piccioni, Radio 103 vi aspetta con main tour, con turista protagonista, perché adesso partiremo per una tappa in Basilicata, ma insomma il nostro tour sta continuando. E in media parte del tour abbiamo la radio, Radio 103, che con le varie curiosità racconta dove siamo, dove saremo e che cosa è successo. Grazie, signori, con le strette di mano e gli abbaracci, i baci qui sul palco, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a tutte le sere, sempre qui, arrivo a Ligure per una serata speciale insieme. Grazie, buona notte da Gianni Rossi, ciao!